Blasioli, qualche minuto fa, quando è stata scoperta la targa, le ha detto questa è la piazza dello sport di Pescara. Queste due manifestazioni hanno fatto la storia di Pescara. Sì, Piazza Duca è la piazza dello sport di Pescara, è la piazza della città delle corse. Dedicare una targa al Matteotti, così come era stata fatta per la famosa corsa su strada, per la Formula 1 della Coppa Cerbo del 1957, è un aspetto molto importante a Piazza Duca che aiuta a ricordare nella memoria dei più giovani quello che è successo qui e quello che oggi ancora succede, in particolare con la prossima edizione che sarà la 71esima per quello che riguarda il Matteotti. Ho dato il Matteotti per merito e quindi significa come se l'avessi data a un clone, a un Renato secondo. Quindi per me Daniele ha tutto il mio rispetto, deve fare tutto quello che pensa di fare e certamente se vedo qualcosa di diverso che magari lui non riesce ancora a capire, glielo dico tranquillamente come se fosse un fratello, eccetera. Per quanto riguarda il Matteotti vogliamo che rappresenti anche il futuro di questa città perché il Matteotti è la corsa di Pescara, è la gara ciclistica secondo me più importante che conoscono tutti da tutte le parti. Renato è saldamente al suo posto perché è l'anima di questo Matteotti e continuerà a essere l'anima di questo Matteotti. Il Matteotti deve ritornare ai valori che aveva e per fare questo non c'è bisogno di Sebastiani, c'è bisogno di un gruppo di lavoro che abbiamo messo in piedi e che sicuramente farà il possibile per far ritornare questa gara ad essere una delle gare più importanti in Italia.